Ciao grandissimi, sono Indo ragazzi e siamo qua, tornati, assieme Ebbene sì grandissimi, riaccoci qua, nuovo video Ed è un video un po' particolare perché è il video, diciamo, delle vacanze di Natale Ma è un video un po' personale anche questo Perché visto che questo comunque è un periodo da settembre in poi in cui ci sono stati molti video personali Direi che questo è la conclusione un attimo di un cerchio E è molto importante perché è stato un periodo importante questo nella mia vita E continuerà per i prossimi mesi, un periodo davvero molto importante Per vari motivi che vi andrò a dire nel video Ma innanzitutto è stato un bellissimo periodo perché come vedete anche qua sotto Ho compiuto gli anni, quindi un altro anno in più Chissà, più saggezza anche porterà quest'anno in più E soprattutto, oltre a varie nuove aperture che ho avuto nella mia vita, a nuove occasioni C'è stata qualcosa di importante Ovvero ho raggiunto ufficialmente i 10.000 iscritti su YouTube Guardate, quando vi dico che era il mio obiettivo da non so quanto tempo Anzi, il tempo lo so perché era il mio obiettivo quando ho aperto il canale YouTube E infatti è così Io quando ho aperto il canale YouTube volevo creare una fanbase monotematica di Assassin's Creed Una community di Assassin's Creed Da 10.000 iscritti E obiettivo raggiunto Obiettivo raggiunto è come Sono davvero wow, sono felice Sono felice perché è davvero un riempimento interiore È davvero una gratificazione molto personale, molto interiore Che è difficile anche da buttare fuori Però è davvero, è gratificazione Ma è molto interiore come cosa È una cosa molto intima questa sensazione E il che la rende molto speciale Quindi scusate se non sono qua a saltare e lanciare sedie Però davvero è qualcosa di più interno a me Perché è come quando inizi un progetto da zero Che ti prende molto a livello personale E vedi finalmente arrivare dove auspicavi che arrivasse Quindi è molto bello È stato un percorso davvero tortuoso Ma non sono qua a dover raccontare tutto quello che è successo durante questi anni Sul canale che è un po' una cronistoria di questo mio tempo Passato su YouTube Ma sono qua comunque per ringraziarvi Per avermi seguito fino ad oggi Per continuare a seguirmi anche nel futuro Perché sì, andremo avanti E andremo avanti assieme Assolutamente sì Non finisce qua È un obiettivo Ma si va avanti assolutamente Nonostante i mille mille impegni Nonostante la difficoltà che ci può essere Nel creare, pubblicare video Perché come vi ho anticipato prima Ho nuovissime occasioni nella mia vita Occasioni che levano tempo Purtroppo in alcuni aspetti Alla mia parte più creativa Diciamo che è la realizzazione di video Come vi ho già detto Sto seguendo un master Al contempo Sto facendo due stage Quindi due tirocini In due aziende anche Per quanto riguarda molto importanti Sto insegnando attraverso corsi di informatica Nel comune della mia città Qua vicino Sono segretario generale di un'associazione di promozione culturale E sono tantissime cose che sto facendo Ma sono felice Sono felice perché Sto facendo tantissime cose Sto anche viaggiando Trovo il tempo anche di viaggiare Con una compagna di viaggio Che è la mia compagna di viaggio ideale Quindi sono contento Sto facendo tante cose che volevo fare L'altra cosa che volevo fare era però YouTube Mi dispiace lasciarla un po' da parte Però in qualche modo la porto avanti E va bene Voglio migliorarmi Ne ha costanza Perché penso di poterlo fare E penso di poter riuscirci Però va bene Sto crescendo Sto crescendo E sto entrando davvero in quella che è la vita E sto cercando di capire il mio percorso qual è Quindi sto provando Provando tanto E per vedere che cosa mi piace Per capirlo Quindi è un periodo molto impegnativo Molto stancante Ma penso che se do il 100% Alla fine Se mi guardo là indietro Ci sarà sempre un po' di insoddisfazione Perché sono una persona che non si accontenta mai Però sarò contento Quindi bene Intanto se avete visto qua sotto Sono passati un po' di auguri Come avete fatto per il compleanno Ho fatto dei post su Instagram E voi mi avete risposto in direct Quindi grazie mille Per tutti gli auguri Bellissimo L'avete fatto Davvero grazie di cuore Grazie soprattutto per il raggiungimento Di 10.000 iscritti E spero che passiate davvero Delle buone feste Insieme ai vostri parenti Insieme alle vostre famiglie E ai vostri amici Che vi divertiate E che ci diverteremo un po' assieme Perché il futuro è ancora assieme E io sono sempre pronto Ad essere la vostra guida Che sia Assassin's Creed Oppure nella vita Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.